ciao a tutti ragazzi bentornati nel mio canale oggi sono in compagnia di una centralina saldante della weller veramente vecchia e decrepita oramai destinata probabilmente alla ricicleria visto che è tutta completamente disintegrata in questo video la rigenererò per interpretare un nuovo design quindi vi lascio a voi la sorpresa andiamo a vedere se funziona colleghiamo e ora dovrebbe accendersi allora perfetto funziona vediamo se fonde lo stagno bene direi che funziona buona visione sigla ciao Grazie a tutti. 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 Ciao a tutti. Grazie 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 a tutti. 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 a tutti.